è una bella domenica di sole l'acqua è fresca e l'erba è morbida in questa tela di sera ambientata ad asnier borgo industriale sulla senna a nord ovest di parigi infatti sullo sfondo del dipinto sono presenti diverse ciminiere delle fabbriche di cliché mentre il fumo che intravediamo proviene da un treno che sta transitando sul ponte in primo piano un gruppo di giovani probabilmente operai si stanno rilassando in riva al fiume uno di essi al centro del dipinto si è tolto tutti i vestiti e rimasto in costume si è seduto in riva al fiume con le gambe a bagno un altro è già in acqua e sembra soffiarsi sulle mani forse per scaldarsi un altro ancora sul bordo del dipinto è mollemente sdraiato con un cagnetto contro la schiena poco più in là un bagnante in acqua si stringe nelle spalle per il freddo mentre uno sta seduto sul prato con un largo cappello di paglia in testa sul fiume una barca trasporta una coppia sull'isola della gran jatte tema di un'opera successiva di sera questo è il primo grande dipinto dell'artista che disegnò studi a pastello per le singole figure utilizzando modelli dal vivo fece inoltre piccoli schizzi a olio sul luogo che poi usò per aiutarsi a progettare la composizione finale e a registrare gli effetti di luce e di atmosfera la tecnica che qui usa serà non è quella puntinista che in effetti il pittore non aveva ancora messo a punto ma vediamo già che in diverse aree della tela l'artista applicò il colore con punti in contrasto tra loro per creare un vibrante effetto luminoso ad esempio si è raggiunse al cappello del ragazzo in acqua dei punti di arancione e blu per accentuare il contrasto cromatico l'erba del prato è il risultato di insieme di molti colori tra cui il giallo cadmio l'azzurro cobalto il blu oltremare il magenta e il viola la semplicità delle forme l'uso di profili regolari chiaramente definiti dalla luce ricorda il dipinto dell'artista rinascimentale piero della francesca con il battesimo di cristo conservato alla national gallery nel suo modo di creare figure viste di profilo serà potrebbe essere anche stato influenzato dall'arte egizia un particolare colpisce manca totalmente la comunicazione tra i personaggi che sembrano tutti persi nei loro pensieri è come se ci trovassimo di fronte a una versione moderna del tema classico delle bagnanti in cui giovani donne sono rappresentate mentre fanno il bagno sullo sfondo di un paesaggio rigoglioso e incontaminato se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando